I neonati e i bambini sono davvero carini per la maggior parte del tempo, ma alcuni genitori dovrebbero davvero ricevere delle medaglie per sopportare il casino che alcuni di questi angioletti finiscono per combinare. Da reazioni involontari del corpo fino a delle vere e proprie aggiunte alle decorazioni di casa, ecco qui alcuni genitori che sicuramente si sono pentiti di avere avuto un bambino. Numero 1. Photoshoot familiari. Possono essere un ottimo modo per ricordare il miracolo della nascita? Purtroppo però nessuno può mai sapere come reagirà il bambino alla prima volta. Infatti basta notare cosa è successo a questa povera madre mentre stava posando con il proprio bimbo. Ad un certo punto la donna si è avvicinata un pochino troppo alla bocca del povero piccolo che non è riuscita a contenere bene l'ultimo passo che è andato a finire direttamente nella bocca quindi della povera madre. Numero 2. In una mattina ad ottobre del 2004 una donna di nome Gina Brown stava seguendo la sua solita routine quando decise di andare a controllare i suoi piccoli figli, Ethan ed Emily. Purtroppo la donna si trovò davanti a una scena alquanto catastrofica, infatti la madre si ritrovò davanti ad Emily che spalmava addosso al fratellino uno strato di burro d'arachidi, tanto da farlo diventare ormai una statuina di colore oro marrone. Il video è diventato completamente virale e quella mattina rimarrà sempre impressa nella mente della madre Gina di quando la sua bambina ha trasformato il suo bambino in una statua di bronzo. Numero 3. Dopo aver ricevuto una chiamata dal vicino di casa poliziotto che diceva di tornare a casa velocemente per qualcosa che riguardava i figli, una donna corse fino a casa temendo per l'incolumità dei bambini, ma una volta raggiunta la dimora si trovò davanti a questo. A quanto pare i bambini avevano semplicemente creato una vasca dalle bollicine perfette. Numero 4. I bambini sono davvero degli esseri alquanto creativi, infatti non riescono a resistere un secondo all'usare tutto ciò che gli capita sotto le mani. Provate ad immaginare la faccia dei genitori quando si sono ritrovati davanti alla figlia che stava usando banconote per creare un collage. Fortunatamente queste erano banconote da 100 yuan che si traducono in circa 14 euro o dollari e a giudicare dalla foto sembra proprio che l'opera della bimba sia costata all'incirca 300 euro alla famiglia. Numero 5. C'è un detto che dice che il silenzio è d'oro, ma non quando si ha un bambino. In questo caso il silenzio risulta molto sospetto. Infatti una povera mamma ha dovuto scoprire tutto ciò nel peggiore dei casi quando notò che sua figlia di due anni era stata fin troppo silenziosa mentre lei allattava il bambino più piccolo. Infatti dopo aver seguito una scala di orme fino al salotto si è ritrovata davanti alla ragazza ricoperta di vernice bianca. Certamente una bella doccia avrebbe potuto pulirla subito, purtroppo lo stesso non è valso per i genitori che hanno dovuto passare giorni e giorni a togliere via la vernice dal pavimento. Numero 6. I bimbi hanno davvero uno strano metodo per esprimere il proprio amore per i genitori. Infatti una nota come questa scritta sul cofono della macchina di papà non è proprio una scoperta completamente commovente. Numero 7. Sembra davvero che i bambini siano attratti da qualsiasi cosa possa scatenare il caos. Infatti i parenti di questo piccolo monello qui si ricorderanno di non lasciare mai più la crema vicino alla tv. Probabilmente il bambino ha visto la tv come se fosse un telo perfetto su cui dipingere, oppure il programma che andava in onda non era proprio di suo gradimento, oppure stava semplicemente guardando Alt Attack. Numero 8. Spesso sono proprio i più piccoli che si ritrovano ricoperti di strane sostanze e per quanto riguarda questa ragazza sembra proprio che una semplice doccia non basterà lavare via tutto quel fango. Numero 9. Esistono molti strumenti che dovrebbero essere tenuti molto lontani dalla portata dei bambini e un rasoio elettrico è proprio uno di questi. Infatti una madre rimase completamente impanicata nel maggio del 2019 quando una volta tornata a casa ritrovò i suoi figli con delle acconciature alquanto bizzarre. Purtroppo i capelli dei bambini dovrebbero essere completamente rasati a zero, ma sicuramente cresceranno presto. Prima di passare al prossimo punto però, se usate Amazon o se avete intenzione di farlo, vi consiglio di seguire il canale Telegram che trovate nel primo link in descrizione. Si tratta praticamente di una sorta di chat gratuita dove vengono postate offerte lampo, sconti anche del 70-80% ed errori di prezzo da sfruttare. Iscrivetevi al canale Telegram perché è completamente gratuito e appena vedrete uno sconto interessante potrete in qualsiasi momento forneuso, anche immediatamente. Sicuramente vi tornerà utilissimo, ma ora continuiamo con il prossimo punto. Numero 10. Bambini ed animali hanno un forte legame, ma dubito che i genitori di questo bimbo crederanno che sia stato il cane a colorarsi da solo e dipingere il muro. Purtroppo questo non è l'unico animale che è stato trasformato in un'opera d'arte dei bambini. Infatti ecco qui un altro esemplare che se ne sta completamente fermo mentre il bimbo lo colora. Oppure ancora questo povero altro dalmata che è diventato alquanto extra dopo che gli sono stati appunto aggiunti dei colori extra. Numero 11. I bimbi amano sovrastrimare la propria abilità, come ad esempio questa piccola bambina che pensava di essere grande abbastanza per poter usare il water per adulti. Purtroppo per lei non lo era e questo l'ha portata in una situazione piuttosto imbarazzante. Fortunatamente la scena è capitata nel comfort della propria casa a differenza di quest'altro bimbo che ha deciso di effettuare un giro di prova per questo water in mezzo ad un negozio. Numero 12. Molti clienti di un negozio hanno preso uno spavento quando hanno sentito un bambino che chiamava il padre e hanno quindi guardato su ritrovandosi questo davanti ai propri occhi. Sembra proprio che lasciare i propri figli non supervisionati anche solo per un secondo possa rivelarsi un gioco veramente pericoloso. Numero 13. È facile sottostimare la mente di un bambino e la madre di una bambina lo ha scoperto in un pessimo modo dopo che ha ricevuto una dozzina di pacchi da Amazon mentre aveva detto alla figlia di poter ordinare una sola Barbie. La madre capì velocemente il suo errore e ben 350 dollari di merce fu scaricata a casa sua. Purtroppo per la bambina tutta la merce fu rimandata indietro e la piccola fu messa ovviamente in punizione. Numero 14. Molti genitori vogliono insegnare ai figli che col tempo le loro responsabilità aumentano ma certe volte finiscono per pentis di non aver semplicemente svolto il lavoro da soli. Questo è proprio quello che è accaduto con una madre che aveva chiesto alle sue due figlie di dar da mangiare al loro cane per poi ritrovarsi davanti a una scena imbarazzante come questa e il proprio cane pieno di cibo qualche metro più in là. Numero 15. Solitamente è sempre meglio tenere ogni oggetto di valore lontano dalla portata dei bambini. Purtroppo un padre l'ha dovuto imparare in un modo piuttosto brutto dopo che si è ritrovato l'intera tastera del proprio computer staccata. Un altro bambino ancora invece ha scelto di decorare l'intero MacBook del padre usando dei pastelli colorati. Almeno adesso sarà decisamente originale rispetto a tutti gli altri MacBook dei suoi colleghi. Numero 16. Nel caso distruggere portatili non fosse abbastanza ecco qui un bambino di soli due anni che è riuscito a distruggere ben 1060 euro dei genitori senza che se ne accorgessero minimamente. La coppia stava risparmiando i soldi per andare a vedere una partita. Fortunatamente si sono accolti di cosa stava facendo il bambino e hanno poi contattato un ufficio che si occupasse di denaro distrutto. E in un modo o nell'altro sono riusciti a recuperarlo. Però cavoli, l'hanno passata brutta. Numero 17. Ci sono casi in cui il costante rumore e gli alti livelli di movimento possono dare grande fastidio. Uno di questi è sicuramente durante la mattina. Un esempio è proprio questo povero padre che è stato svegliato all'improvviso dopo che il figlio gli è letteralmente salito sulla faccia. Numero 18. Portarsi in giro un bambino in luoghi pubblici viene accompagnato da moltissime altre sfide indesiderate. Un esempio è questo piccolo bambino che si è letteralmente versato addosso tutta la bottiglia d'acqua quando stava cercando di bere un goccio. Numero 19. Riuscire ad effettuare un pasto senza nessun intoppo è davvero un momento di gloria per ogni genitore. Mangiare fuori invece diventa però una sfida tutt'altro che semplice. Immaginate però l'imbarazzo della madre di questa bambina che piuttosto che mangiare ha preferito posizionarsi a testa in giù. Numero 20. La maggior parte dei bimbi furbacchioni cercheranno prima o poi di ridecorare completamente la casa. Questi due però hanno in realtà deciso di portare un pochino di freddo all'interno della propria casa creando un po' di falsa neve. Il viso della bimba mostra chiaramente i sensi di colpa ma a dubito abbiano avuto rimpianti. Numero 21. Un'altra cosa che assomiglia vagamente a della neve sembra proprio essere la schiuma da barba del papà. Infatti sembra ottima per essere utilizzata per giocarci come hanno fatto questi bambini. Purtroppo non è chiaramente altrettanto divertente andare a pulirla. Numero 22. Una delle caratteristiche particolari di un bambino è la sua curiosità e questo bambino non sapeva proprio cosa poteva accadere camminando in mezzo ad un vialetto ricoperto di cemento fresco. La faccia della madre riassume perfettamente la sua situazione. Numero 23. Nel caso non sia un genitore questa folto risulta essere completamente un incubo ma nel caso siete già dei genitori allora questo potrebbe essere il vostro solito sabato pomeriggio. Fortunatamente il padre può andare a farsi una nuotata piuttosto velocemente per pulirsi. Sfortunatamente però lo stesso non si può dire di questa madre che sicuramente non si aspettava di essere lavata di prima mattina dal vomito del bambino. Numero 24. Se c'è un'altra cosa che i bambini fanno oltre alla pupù nei loro pantaloni è certamente piangere ed urlare. Un genitore era così annoiato e disturbato dalle grida del bambino che ha deciso di comprare un contatore del volume che gli ha fornito una lettura di ben 109.7 decibel. Per dare un'idea chiara di tale livello l'urlo è più rumoroso di una moto da cross, un taglierba e anche di un martello pneumatico. Numero 25. L'amore tra fratelli e sorelle è davvero bello da vedere ma non si sa se questa bimba apprezza molto il photoshoot che ha avuto con il suo piccolo fratellino. Probabilmente non lo sapeva ancora ma molti si chiedono quanto ci abbia messo quel sorriso a scomparire dopo che si accorta della male fatta del fratellino. E queste sono soltanto alcune delle scene che capitano nella vita quotidiana di ogni genitore soprattutto se sia un bambino appena nato. Se siete dei genitori che hanno appena dato vita ad una nuova vita lasciate un grosso mi piace, iscrivetevi se siete nuovi al canale e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Non dimenticatevi di attivare la campanellina e se volete vedere un altro video vi consiglio uno di questi due a schermo. Alla prossima!